Una lettera minatoria con minacce precise e gravi recapitate dal direttore di unità del pronto soccorso dell'ospedale di Eboli, Rino Pauciulo. Le minacce pare fossero relative alla volontà da parte del medico di far rispettare le leggi. Il noto chirurgo di Corbara in passato ha lavorato presso l'ospedale di Nocera Inferiore, oltre a partecipare a missioni umanitarie all'estero e in zona di guerra. Sull'episodio indaga la magistratura, il primario ha presentato una denuncia ai carabinieri di via dalla chiesa. I militari seguono diverse piste. Il medico è conosciuto in ospedale per aver iniziato la crociata contro gli incidenti falsi ed allontanato dal pronto soccorso alcuni avvocati e i loro clienti, azzerando le prognosi di molti pazienti e trasmettendo ai carabinieri alcuni certificati.